Un terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Calabria poco dopo le 15 di ieri, lunedì 26 settembre, con epicentro a 5 km a nord-est di Antonimine, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto rilevato dagli NGV la profondità è pari a 17 km, il sismo è stato avvertito in diverse zone della regione. Per ora non si segnalano danni a cose o persone.